Ecco qua, caffettino appena fatto. Allora, la vita? Niente, aspetto la risposta di un'altra banca. Farò in modo di ridurre l'importo. Ma come fa a ridurre l'importo, scusami? Ginevra Mantovani, se una banca accetta mi presterà qualcosa. Mi sembra piuttosto complicata una cosa, comunque con le banche non ti illudere, fidati. Senti, finché non saranno passati venti giorni e non avrò i soldi, io non mi arrendo. Cioè, mi stai dicendo che devo sopportare altri venti giorni Michelangelo e mezza coglione al casale? Io sono in questa situazione e tu ti preoccupi che non sopporterai l'apo. Ma ti rendi conto di quello che mi stai dicendo? Pasqua, era una battuta, eh? Calma ti. No, non mi calmo. Perché se dici così vuol dire che non hai capito niente di me. Forse il nostro rapporto è stato uno sbaglio. Che cazzo hai detto, scusa? Abbiamo idealizzato la nostra amicizia e pensato che fosse amore. Tu sei mettendo in discussione il nostro rapporto adesso che è tornato il tuo ex. Cosa vuoi dire? Dimmi la verità, è per questo che non lascia il casale. Eh? Un ritorno di fiamma. E te ne vai pure. E te ne vai pure.